Dalle prime ore del mattino i carabinieri della compagnia di Oristano stanno eseguendo diverse ordinanze di misure cautelari in carcere, relative perquisizioni personali e locali nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di far parte di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione, produzione, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'operazione sono impiegati oltre 100 militari delle compagnie di Oristano, Mogoro, Tana e del nucleo investigativo del comando provinciale di Oristano. Ulteriori dettagli saranno resi noti alle 10.30.